Speriamo tra l'altro che l'audio vada bene, speriamo che va bene tutto La corona? C'ho la corona? Via! Coronaccia Coronaccia Grazie per chi ha lasciato like alla live ragazzi, eh Ripeto, spero sempre che l'audio vada molto bene, lo spero Sono un po' triggerato che l'asta È un po' stronza, ma Vi dico che è da un po' che non gioco a Fortnite, eh Sappiatelo Eh, mi sembra che pure Fortnite ce l'abbia un po' con me però, eh Fortnite, mi hai dato praticamente tutto, mi mancano solamente gli shieldini Guarda, me l'accollo, va bene Se voi pensate che io l'abbia fatto apposta, vi prego di Di credermi Quando vi dico che assolutamente tutto quello che avete visto non è stato fatto apposta Ve lo dico con grande serenità, eh Eh, ok Dunque, raga È un botto che non gioco Ma tanto, 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 tanto Ok Ok Non so minimamente dove, chi, quando, perché Dove Dove Bella questa però, mi è che, bellissima questa, mi è che, bravo Bravo, 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 bravo L'abbiamo squartato, ragazzi Raga, squartato Però, vi dico, secondo me non la vinco, eh Io, io ve voglio bene Che troia Ok Secondo voi dov'è, eh Madonna mia Mi fai prendere i colpi Mi fai prendere i colpi Dai, ci vediamo in endgame Ci vediamo in endgame Ma no, non la voglio, grazie tesoro No, non la voglio, non la voglio, no, non la voglio, non la voglio Ci vediamo in endgame Dai, 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 gioca per l'endgame Se no ci bannano Gioca per l'endgame Allora Quella è un'altra banana ma non so assolutamente come prenderla Allora, tutto sommato Tutto sommato Per il momento non sta andando affatto male Non mi prendo assolutamente il coso Chissà se la partita La prima partita sarà da canale Secondo me no Però Mamma mia Ok Non ho movement Non ho niente Audio è perfetto Apprezzo, Matt Grazie mille Poi comunque lo ascolterò pure io E vi dirò Che cosa ne penso Ah, perché sono un po' maniacale Su ste cose Io Purtroppo C'ho sto brutto C'ho questa bruttissima abitudine Allora Il problema è Che Io so che qui C'è qualcuno Ma Non ho idea Di dove possa essere Oltre quello Un altro problema Ragazzi E che Non ho l'impulso Ok Quindi Uno È scappato con la macchina Ha tirato un Bunkatile lì A sinistra E si stanno sparando Ripeto Io non ho Purtroppo Quello è andato via Con l'aria E quello Mi sa che C'ha Vedi Adesso Servirebbe Il paguro Sniper Che va lì E lo trita Quello Sì che sarebbe Un grande Content Era il mio paguro Ti ringrazio Paguro Ti ringrazio Ma non ce n'è stato bisogno Però apprezzo Eh Oh Come se avresti Come se avessi apprezzato Tantissimo Grazie Grazie infinite Patato Grazie Apprezzo 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 Devo dire Devo dire Che come Raid c'è stato Però l'ho Spappolato Ragazzi L'ho veramente Distrutto Fortinet è troppo Lento Dovrebbero fare Un gioco più Veloce Io non vedo Ora che esca La nostra Mappa Ragazzi Vi giuro Non vedo Ora Non vedo Ora che esca La nostra Mappa 28 28 28 Aquilino Ha tirato Un buncheatile Allora Decisamente Così Decisamente Così Decisamente Così Si va Qua Si prende Questo Si fa Così Ok Ci ho tutto Secondo me La roba giusta È questa Ora non so Se Ah no È stato Aquilino Aquilino Vatta a prendere La roba Dentro Al bunker Se vuoi Speriamo Dei giocare Bene Non lo so Bella Nick Raga Io non so Se ho fatto Un tremendo Tremendo Errore A non Prendermi A non Prendermi Bunchatili Secondo me Sì Perché Ste partite Le vedo Proprio Cioè Ragazzi Non ha Senso Le partite Così Non hanno Veramente Senso Ragazzi C'è Aquilino Che ha Problemi Contro Quel Marrano Ora Speriamo Che il Marrano Speriamo Che il Marrano Aquilino Ha lanciato Uno Shieldone Dietro Se potrebbe Fai Però Sti Cazzi Noi lo Fiamo Cazzi Su Adesso Marrano Via Se Virebbe Un Cecchino Guarda Mo Sicuramente Lo prendo Un faccia Io Tranquillo Non Non Ci stanno Problemi Allora Raga Purtroppo Bisogna Inventassere Le giocate Su Fortinet Quelle Divertenti Che devi Fa Mo Quello Se ne Va Eccolo La Quello Non è Aquilino Però Ah Quello Guarda Guarda Quello Lì Per quanto Riguarda Me Potrebbe Anche Implodere Con quel Potere De Merda Minchia L'ho Distrutto Cecchino 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 Vi giuro Ragazzi Non ha Senso Cioè Avere Contro Un cecchino Un cecchino E tu Non è Il cecchino E Una delle cose Più Svantaggiose In questo Momento Poi tra l'altro Qua c'è morto Uno con 555 Cosi Ok L'ha appena presi Secondo me Vado a morire Ah eccolo Eccolo Stava qua Riesco Riesco Fortinet Fortinet Non si Non si Può fare Niente Su fortinet Il problema Di avere Comunque Un alleato Ok E che tu Non sai mai Se è quello O no Io quello Lo potevo Pushare con L'impulso E fregarmene Ma Non è stato Esattamente Quello Che siamo Riusciti a fare Questo è Aquilino Aquilibri Un po' Ci bannano Se camminiamo Così vicini Però Io Sappilo Porta Pazienza Petrice Probabilmente Devi abbassare Un pochino La qualità Della live Può essere Che c'è Qualche problema Di connessione E hai bisogno Di Di meno Banda utilizzata Inutile che Refresh Chi è che mi ha sparato Chi è che mi ha sparato Chi è che ha Sparato A me Egli di quella Comunque Regà Alla fine Queste sono Completamente Ranked Io ve lo voglio dire C'è Delle robe del genere Sono ranked Abbiate pazienza C'è Beh Sta worse Non vedo l'ora Che arriva Così almeno Se tolgono Ste cazzo De cose Che a me pure Fanno un po' schifo Aspettiamo In grazia di dio Ragazzi In grazia di dio Non ho assolutamente Armi Cose per Per fronteggiare Affronteggiare roba Ma La vedo proprio Grigia 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 Vibro per quale motivo Cazzo è diventato Mi devo ricordare Comunque Di editare Questo video Perché capisco Che Un conto È vedere Una partita In live Un conto È vedere Fortnite In video E sicuramente Va Va Ah poi Aspettate Magari in questo momento Muoio di cecchinata E non devo più editare Niente Cioè È molto molto semplice A me ogni tanto Vibra il pad Ma non Riesco A capire bene La La motivazione Mamma mia La gente Coi poteri Ragazzi A me Mi fa venire L'orticaria L'orticaria Sì Sono sicuro Che Purtroppo I buncateli Mi serviranno Sono Assolutamente Assolutamente D'accordo Con voi Raga Questa partita È super Stacked Pure un po' Troppo Inutile Che mi butto A push A persone Stanno tutti Là Ragazzi Ragazzi Andare Ad attaccare In questo Preciso Momento È una Cazzata Abnorme E non sto Scherzando Raga È veramente Una puttanata Gigante Vedete per esempio Queste due Impulso Saranno molto Comode Se rimaniamo Vivi Ovviamente Qua c'è qualcosa No Però 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 Una cosa Che ci può Essere utile È qualche Medio Secondo me Altro Non vedo Non vedo Cioè Capito Che minchia Di partite Ragazzi Quello Va fermato Biscottina Sei per caso Tu Perché se non lo sai Che io sto 15 minuti A cercarti Mi fai una picconata Se sei tu Dio Santissimo Tu È biscottina È L'allero Vero Biscotti Te possono acchiappate Non so che Te posso acchiappare Biscotti Te giuro Quello però Quello lo prendo Grazie Biscotti 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 Una cosa Mi dai i cecchini Mi dai i cecchini Mi dai i colpi Biscotti I colpi Biscotti I colpi Biscotti I colpi Biscotti Che cazzo Sparo Sennò Grazie Biscotti Lo sai Vaglio Ok Bravo Bravo Fottiamo il sistema Bravissimo Grazie Questo Questo posso apprezzare E me ne vado Eh Questi sono gli airdrop Ragazzi Questi sono gli airdrop Attivi Su Fortnite Capita Capita Vabbè Adriano Alla fine Gli sniper Se te fai durizzato E te portano un'arma Fanno pure comodo Merda Antipatico Oh 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 Ah ma questo mi vuole Così tanto morto Ah no Ah no C'ho la macchina tutta distrutta Se mi tira una cecchinata Sono morto C'ho la macchina Tutta distrutta Se mi tira una cecchinata Sono morto Riesco a salire secondo voi si? Oddio Se lo prendevo era un miracolo Però Allora Ti prego sali E niente Mi tocca utilizzare L'impulso L'impulso Ok Regà Secondo me Bella Andrea Ciao Giulia Mi servirebbero I boccatili Uno sta dentro al cespuglio No regà Praticamente sono morto Non ho via di scampo Ragazzi non posso avere via di scampo Impossibile Impossibile Vincere questa partita è impossibile Regà è impossibile Ma voi state vedendo come stanno giocando Sì Eh biscotti io non so Come cavolo tu farai No ma dai Regà Regà pure il botta è greve 116 116 116 6 Facciamo così C'ho una cosa in mente Però non so quanto è buona Speriamo di non creparci Ok Biscotti Ma la finisci di fare il cretino Ok Siamo rimasti in tre Fatemi capire Ma siamo tutti noi Cioè Aguilì sei rimasto O sei morto No Non è Aguilino Aguilino è morto Regà Merda Merda Eh c'ha il cecchino Porco di quello La vedo brutta La vedo brutta Come la vedo brutta Ah Minchia Via qua biscotti Vai Lo sai come funziona no? Lo sai come funziona no? Non so perché ma stavolta penso di morirci Mamma mia se moriva in aria Se moriva in aria Let's go Bella 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 Da canale Da canale Da canale Bellissima Bellissima Mi piace Mi piace Mi piace Di ä Wiim Di 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 Po-rore-po-re-po-rei-po-re-po-rie-po-re-po-re un po-re-po-re-po-re-po-re-po-repo-rore